Cosa è la malnutrizione acuta? La malnutrizione acuta è un grave problema di salute che può portare a problemi permanenti di metabolismo, rotture dei reni del sistema immunitario e persino la morte per fame. La malnutrizione acuta è una malattia primaria in alcune parti del mondo, causata da una mancanza di cibo o da una malattia improvvisa che impedisce l'assunzione di cibo. Trattare e prevenire la malnutrizione acuta è una delle principali cause intraprese dai governi e dalle organizzazioni caritatevoli, poiché un'alta percentuale di persone che mostrano segni di questa condizione sono neonati e bambini. La malnutrizione è diversa da molte altre malattie, dal momento che la causa non è una scomposizione corporale intrinseca, ma spesso a causa della povertà e della mancanza di cibo. Il corpo richiede cibo come un'automobile e richiede carburante, senza vitamine, minerali, proteine e amminoacidi, gli organi del corpo non possono funzionare normalmente. Quando un'improvvisa mancanza di cibo crea malnutrizione acuta, la funzione degli organi rallenta e la suscettibilità alle infezioni aumenta drammaticamente. La diagnosi della malnutrizione è alquanto difficile, in quanto non esiste una regola assoluta tra una persona sottoposta a denutrizione e una che soffre di malnutrizione acuta. Un test diagnostico è un confronto tra peso e altezza, chiunque sotto un certo rapporto peso-altezza può essere considerato malnutrito. Nei bambini piccoli, la diagnosi viene spesso effettuata misurando la circonferenza del braccio medio-superiore, nota come misurazione MUAC. Un terzo segno di malnutrizione acuta è la comparsa di edema, o area di retenzione idrica, in tutto il corpo. Il controllo dell'edema si esegue applicando una leggera pressione su un'area gonfia, come i piedi, e controllando se un'impronta rimane temporaneamente sul sito di pressione. L'edema è un segno di grave malnutrizione acuta e richiede un trattamento immediato per qualsiasi speranza di guarigione. Il trattamento della malnutrizione acuta potrebbe non essere semplice come ripristinare il cibo nutriente alla dieta. In caso di malnutrizione causata da diarrea cronica o problemi gastrointestinali, la malattia di base deve essere corretta in caso di miglioramento. Inoltre, coloro che sono rimasti senza cibo per un periodo di tempo prolungato potrebbero non essere in grado di assumere cibo normale, richiedendo un'alimentazione IV fino a quando non verrà ripristinato un certo livello di salute. Poiché la condizione è spesso causata da una carenza di cibo, una cura permanente consiste nel migliorare drasticamente le infrastrutture nelle aree colpite. Mentre i gruppi di beneficenza possono salvare alcune persone dalla morte finale a causa della fame, la cura della causa è un enorme problema che coinvolge l'economia regionale, le strade, la disponibilità di medici, forniture alimentari e distribuzione e persino strutture sociali. Curare malnutrizione acuta in una persona è spesso possibile, ma curare una regione povera della malattia è un enorme problema che deve ancora essere risolto in molte aree del mondo.